allora piccolo video per parlarvi sulla questione maurizio sarri allora sarri ti piace vincere facile vai a vincere facile tanto a me non mi interessa però quel giorno dirai i napoletani ci avevano ragione perché non hai non hai sentimento verso di noi non non hai capito che noi io per me eri con con un parente di famiglia perché ci avevi fatto quei 91 punti almeno avevamo lottato e lì uscivamo con lo scudetto cioè uscivamo senza scudetto però a testa alta io io ti ringrazio però sinceramente sinceramente le persone come te non meritano non meritano di avere dei tifosi così così come il napoli che noi abbiamo detto sarri uno di noi però penso che bisogna togliere tutte queste cose e dire sarri perché c'hai tradito che abbiamo fatto solo questo poi chiudo il video perché sinceramente non mi va di parlare perché mi voglio sfogare non ce la faccio sinceramente dove vedo questa questione mi soffermo parecchio perché penso sarri che ci ha fatto sarri che ci ha fatto e comunque dico comunque bisogna andare avanti bisogna andare avanti perché passano gli anni noi non possiamo pensare sempre agli anni passati che erano anni bellissimi ma dobbiamo pensare al presente niente perché ho capito una cosa sarri gli piace vincere il camionato facile solo questo poi chiudo il video perché tanto non va bene comunque iscrivetevi al canale e attivate la campanella e fatemi sapere nei commenti se secondo voi sarri è un traditore o qualcos'altro ciao